Due colpi esplosi all'alba contro il circolo. Arci di Shanghai, quartiere popolare di Livorno, è stata una dipendente a dare l'allarme al momento dell'apertura quando si è accorta che sulla vetrata sono apparsi due fori di entrata di proiettili. È sicuramente un episodio grave ed estremamente preoccupante perché in ogni caso l'utilizzo di armi da fuoco nei confronti di qualcosa che potrebbe essere anche un simbolo si configura immediatamente come un'intimidazione e una minaccia violenta. I due colpi hanno attraversato la sala cinisca e la vetrata per terminare la propria corsa contro lo specchio che si trova dietro il bancone, un episodio violento sul quale la polizia labronica cerca di fare luce. Noi dobbiamo ovviamente respingere queste minacce. Noi da diversi mesi siamo impegnati in questo territorio, eseguito anche in questa piazza, con attività di socializzazione, di giochi e divertimento nei confronti dei bambini e delle famiglie del quartiere. Il nostro obiettivo è esattamente quello, restituire le piazze al protagonismo dei cittadini. I percorsi inclusivi, soprattutto in favore dei soggetti più fragili, bambini, anziani e famiglie, non possono essere messi in discussione da colpi di pistola o da altre forme di intimidazione. Colpi di pistola come quelli sparati pochi giorni fa contro un esercente bengalese in una piazza del centro. Due episodi non collegati, secondo gli investigatori, ma che danno un segnale preoccupante per la città. Grazie. 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 Grazie.